Coldiretti, nella persona del presidente Ettore Prandini, scrive al ministro della salute, Roberto Speranza, per chiedere che le aziende agricole italiane possano effettuare i tamponi ai lavoratori stranieri in vista dell'imminente vendemmia e salvare i raccolti. La pur legittima ordinanza che dispone la quarantena per i cittadini che negli ultimi 14 giorni abbiano soggiornato in Romania e Bulgaria, sottolinea Coldiretti, priva di fatto le imprese agricole del supporto degli oltre 100.000 lavoratori stagionali che arrivano ogni anno dalla Romania, la comunità più presente nei campi italiani e dei circa 10.000 bulgari, proprio nella fase più delicata della stagione, con l'attività di raccolta che è stata peraltro anticipata a causa del caldo. Le stesse imprese si sono dette da subito disponibili a farsi carico dei costi per sottoporre al tampone i lavoratori stranieri, così da dargli la possibilità di partecipare alle operazioni di raccolta, ovviamente in caso di risultato negativo. Una soluzione peraltro che va nella piena direzione della tutela della salute pubblica, mentre a Roma scattano i test per i passeggeri dei bus provenienti dai paesi a rischio. In questo contesto, sottolinea Coldiretti, per favorire le campagne di raccolta, sarebbe importante, oltre ai test e alla quarantena attiva, provvedere alla pubblicazione del nuovo decreto flussi e procedere a una radicale semplificazione del voucher agricolo, in un momento in cui tanti lavoratori sono in cassa integrazione e le fasce più deboli della popolazione in difficoltà. E voi? Cosa ne pensate lettori di dissapore? Fatecelo sapere nei commenti e se il video vi è piaciuto lasciate un like e soprattutto non perdetevi nessuna novità firmata dissapore iscrivendovi al nostro canale e attivando la campanella delle notifiche.